ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale micall io sono michele e oggi voglio parlare di cuffie o meglio di auricolari auricolari che mi hanno colpito per il loro rapporto qualità prezzo sto parlando di un'azienda che si chiama auslen e in particolare le cuffie si chiamano a o voce g02 me le faccio vedere la vicino alla telecamera e sono delle cuffiette che mi hanno colpito per design soprattutto per un rapporto qualità prezzo ottimo perché stiamo parlando di cuffie che di listino costano intorno ai 29 euro e spesso si possono trovare anche sotto i 20 euro in occasioni come black friday e altre occasioni appunto di scontistiche varie su amazon e che vi devo dire delle cuffie veramente molto belle che hanno tanti punti di forza come per esempio aspettate un attimo ve lo dico dopo la sigla ragazzi a questo punto vi faccio vedere che cosa c'è all'interno del packaging il packaging come potete vedere è minimale in quanto è molto piccolino qui dietro vi sono elencate tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche delle cuffie che adesso andremo a vedere aperto come potete vedere all'interno troviamo le nostre cuffie benissimo a questo punto che cosa c'è oltre alle cuffie come sempre troviamo un manoletto di istruzioni dove è presente anche la lingua italiana e poi questo è uno dei primi punti di forza che mi ha stupito su queste cuffie perché ragazzi noi lo diamo per scontato ma mi dispiace dirlo non lo è ovvero un cavetto di tipo usb e type c perché 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 vi posso assicurare che anche cuffie insomma che costano molto di più parliamo diciamo di cuffie che hanno un costo di 70 insomma 100 euro e ancora oggi nel 2021 hanno un cavetto di tipo micro usb spesso per cui togliamole un attimino queste qui mettiamole da parte e per l'appunto vi faccio vedere come qui c'è un attacco di tipo type c il che significa che abbiamo lo standard più moderno e ragazzi sono belle al tatto lisce ve le faccio vedere subito le togliamo dal loro case e si presentano in questo modo ora come potete vedere non so se la telecamera riesce a mettere bene a fuoco questo è un altro punto di forza importante cioè hanno dei piccoli led che fanno capire per l'appunto che le cuffie si stanno connettendo al device tra l'altro un'altra caratteristica molto particolare è il fatto che hanno un brutto di tipo 5.1 e anche questa è una grande caratteristica perché spesso queste cuffiette non hanno per l'appunto un brutto così avanzato ma spesso montano un brutto di tipo 5.0 un'altra cosa che avete visto per l'appunto è che ci sono questi led che vanno a indicare poi lo stato di carica in questo momento è quasi del tutto carico insomma quando noi andiamo a posizionare le cuffie all'interno potremmo capire più o meno quanto ci rimane di carica e per quanto riguarda la carica vi faccio per l'appunto vedere la capacità della batteria il case ha una batteria da 300 mAh le cuffie hanno una batteria da 30 mAh e per quanto riguarda il tempo di ricarica delle cuffiette ci vogliono circa un'ora e mezza mentre due ore per quanto riguarda il case diciamo che le cuffie hanno grossomodo una durata come è specificato anche qui music time, talking time cioè tempo di musica ma anche di una delle conferenzioni telefoniche di ben 6 ore quindi hanno veramente una batteria presso degli auricolari abbastanza infinita un'altra caratteristica particolare appunto è che hanno una ricarica rapida per cui ragazzi che vi devo dire su questa fascia di prezzo sinceramente non mi sono mai aspettato e proprio un altro punto di forza ancora di cui voglio parlare è il microfono perché mi hanno stupito spesso cuffie di questo tipo poi si sentono male l'interlocutore dall'altra parte ci sente male invece qui no, l'interlocutore ci sente benissimo pensate appunto che io ho avuto anche e ho delle cuffie di brand importanti dove spesso però c'è un ritorno di voce almeno stavo parlando sempre di 30 euro quindi su questo segmento qui invece non ho riscontrato alcun ritorno di voce l'interlocutore dall'altra parte mi ha sempre sentito bene anzi ho dovuto io soltellinare insomma il fatto che avevo delle cuffiette perché non l'avevano nemmeno capito il ritorno di voce o un leggero rimbombosia quando andiamo a mettere durante la conferenzione telefonica il volume al massimo ma se ci manteniamo sul 70-75% che già è più sufficiente come volume per una conferenzione telefonica si sentiranno veramente bene quindi veramente ottime cuffie sotto ogni aspetto infine ragazzi un'altra caratteristica che mi ha colpito è appunto il fatto che si posizionano perfettamente all'interno del loro case cosa non banale perché vi posso assicurare che non tutte le cuffie sono così ben fatte e di conseguenza si inseriscono perfettamente all'interno dei pin che hanno all'interno del case e senza alcun tipo di problema vanno in carica e allora ragazzi dopo avervi fatto vedere che cosa c'è all'interno del packaging beh che cosa vi voglio dire di queste cuffiette c'è solo un termine che mi viene in mente per descriverle ovvero il fatto che queste a voce G02 sono perfettamente equilibrate sono equilibrate perché sia il microfono che il volume, i bassi, un po' tutte le tonalità insomma si sentono bene l'audio è un audio buono sotto ogni punto di vista, sotto ogni aspetto certo quando ci troviamo all'esterno soprattutto quando dobbiamo utilizzarle come microfono per una chiamata ecco non hanno un sistema di soppressione del rumore ma è chiaro diciamo che non si può pretendere tanto su delle cuffie che appartengono a un segmento di questa fascia appunto che basta perché costano poco ma valgono tutti i soldi che costano, io mi sono trovato benissimo vi faccio vedere tra l'altro una piccola clip dove mi trovavo all'esterno in pausa pranzo e sì il design mi è piaciuto, continuo a dirlo perché veramente sono ben fatte ma tra l'altro hanno un'ottima ergonomia, calzano perfettamente dentro le orecchie e nonostante io nel weekend ho fatto anche delle piccole sessioni insomma di jogging, di corsa diciamo che non mi sono mai cadute quindi questo è anche un fattore importante poi ripeto non c'è molto da dire perché sono equilibrate e vanno bene per qualsiasi persona soprattutto in virtù del fatto che adesso ci avviciniamo verso Natale quindi io le straconsiglio a tutti, amici, parenti, nipoti perché costano poco e sono le classiche cuffie tuttofare da avere sempre con sé poi è chiaro, chi vuole spendere di più si comprerà una cuffia, un auricolare di fascia più alta però queste veramente sono delle ottime cuffie da portare sempre con sé e allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi chiedo di mettere mi piace, di condividerlo per supportare il canale Michal un saluto da Michele e arrivederci a un prossimo video grazie a tutti